Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. In A1 fare attenzione per nebbia a banchi segnalata tra Roncobilaccio e Aglio. Sulla FIPILIP. Per il cantiere aperto per i lavori di manutenzione al viadotto del Turboni e possibili disagi tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pluneta. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato, il restringimento di carreggiata per lavori all'altezza del chilometro 16 fino al 31 marzo. Borsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!